Musica Potenta palla ragazzi, sono qui per fare gli auguri al magico bomber Per i suoi 25.000 iscritti, auguri bomber Potenta palla ragazzi, qua Max, lo ho giocato, ci sono da solo e sono qui a presentarvi No aspetta, facciamo i seri, un attimo un po' più i seri Palla ragazzi, qua Max, lo ho giocato, ci sono da solo e sono qui a presentarvi quella laser match Intanto aspetta un attimo che accendo la luce, se no non credo si veda una vega E sono qui a presentarvi quale è quel wedger match, quale è quel wedger match è quello Bene infatti oggi sono qui a presentarvi contro il, ditemelo voi, il magico, il magicone che fa rima con Gabbo E sono qui a giocare contro il magico Gabbo un wedger match Un wedger match con un palio quale giocatore Ragazzi io vi dico solo che si chiama Cristiano Ronaldo Team of the Year Cioè, è stratattica sta cosa Troppo ragazzi Non riesco neanche a parlare da quando sono emozionato per due motivi Innanzitutto perché, minchia Gabbo ragazzi, è un sogno che sa vera appunto fare un video con Gabbo Secondariamente perché questo credo che sia o il primo o il secondo giocatore più costoso di tutto FIFA Quindi fare un wedger match contro Gabbo di questo giocatore è un qualcosa di magico Però ragazzi c'è da ringraziare qualcuno Qual è questo qualcuno che voglio ringraziare? Voglio ringraziare FIFA con il stress che appunto senza questo sito, senza l'aiuto di questo sito Tutto questo non sarebbe possibile perché infatti è lui diciamo che è appunto l'acquisto di sito Che mi ha aiutato a contattare Gabbo e ovviamente ci ha offerto a entrambi questo giocatore Quindi potete pensare che roba che uscirà Cioè, illegale ragazzi, illegale Comunque adesso questa breve intro l'ho fatta con il potente a pala Ragazzi questo è il porta fortuna di oggi E quindi ci sentiamo appena Gabbo e arriviamo Potente a pala ragazzi Qua se lo giocato, ci sono la sole e non devo rifare tutta la presentazione Comunque il magico ci ha scritto che possiamo invitarlo Quindi noi stranamente cosa andiamo a farlo? Andiamo ad invitare e ci prepariamo a questa sfida Che avrà un qualcosa, cioè relativamente spero di magico Ma anche no perché noi non diciamo niente, niente pronostici Comunque se mi sentite un po' strano, un po' diverso È perché veramente ragazzi io sono teso, sono contento Veramente è un clima magico, è un clima magico Però io vi chiedo un favore Per favore aiutatemi a vincere, cosa dovete far per aiutarmi a vincere? Dovete lasciare un like adesso Si suda, si suda mentre arriva il Gabbo Ti carichi ancora un po' Ok, mamma mia Basta, siamo troppo carichi Adesso basta solo che Gabbo venga Oh mio Dio 86, 87, 84 Bestia Oh non ci posso credere che sta per iniziare Oh Madonna Vediamogli la squadra Oddio, ma magari fatemi togliere la parte a destra E magari adesso toglierò anche Ma che cazzo di squadra c'ha? Oddio, oddio Trading of the Year, un'informa Madonna, Madonna i numeri E tu? Ma che minchia fa? Di là Vedi Rony Rony, la mente di noi Che burco giù da Qui Lì La Oltre E va Vai Ma ti ha fatto quella prima C'è freestyle Ancora la campata Madonna Però fa la copiere Di là Muller Oddio Muller la metterà in mezzo No Calcio sangue Calcio sangue Dai È il momento È il momento De Bruyne La metterà in mezzo Sì No Mannaggia Mi È uscito Porca idea Azza Allora ragazzi Abbiamo capito cos'era successo Praticamente qualcuno Dei miei iscritti Cioè non so Magari anche dei suoi Però è entrato nel gruppo E da quel che ho capito Se uno entra nel gruppo Tipo fa Succede qualcosa Del tipo che Butta fuori uno dei due Infatti in questo caso Ha buttato fuori me E quindi eccoci qua Lui adesso ha rifatto il gruppo Questa volta invece Mi ha invitato lui E abbiamo deciso di riniziarla da capo Dato che era sul punteggio Dello 0 a 0 Madonna Ventechè Per Miller Thomas Miller La metterà in mezzo Non c'è nessuno Ronaldo Ronaldo E hai che tu No Mannaggia Speravo nel rigore Madonna Che bello Così Vi voglio Sì Così 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 Hai Ventechè 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 Al 26 Esco Oddio Al 26 Esco All 26 Esco All 20 Oh Bella Dai Vai Continuiamo a andare così Che stiamo andando alla grande Ci trova Due numeri Poggia dietro Li ripassano Miller Avanza Miller Vai in mezzo Miller Nero spozio La gente Si bloca Non ci arriva Cristiano Cristiano Mannaggia la salsiccia Parata Vento con il tempo Uff Svita Oh sono ultra peso 1-0 per me Che bella partita Che bella partita Due di io Due in porta io Un dio in porta lui Mamma mia Rigore Mannaggia Porco Giuda Dai 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 Noia Annaspita 1-1 1-1 Pici mod La mettiamo già Mettiamo già la pici mod ragazzi È da mettere Perché qua bisogna Di staccare Va Ronny Ronny L'ho letto in mezzo E in momento che Non ci arriva nessuno di due Roderluin Va Ronny 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 da solo Ronny da solo Ronny Che tiro di merda Che fortuna Che tiro di schifo Che me aveva fatto Madonna 2-1 Uff Che fortuna ragazzi Ma io sto zitto Però qua sono stato Hai quanto fortunato Di là Mamma mia Casemiro 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 non molla Andiamo a metterle in mezzo Vente che Colpo di testa E c'è il gol 3-1 Vente che Dai Stiamo andando bene Mamma mia Ma che tiro è Che tiro è La potevamo chiudere Grazie Ecco Parata Parata Però Qua c'è Ronny Proverà la magicata Sobredito Bello Complimenti Potente La finta Fa la finta Fa la finta Proprio che è finita Adesso Non facciamoci fare Il gol Ora Sdrogo Bello Grande Azz Uff Ancora Noyer Però La partita è finita Dai Fisca Arbitro Arbitro Lo voglio Arbitro Il gol suo Yes Bello 4-2 Uff Non può recuperarsi No 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 E No Dai 4-2 Però La partita Fa niente Fa niente Stiamo calmando Stiamo calmando Yes Finita Finita Oh Ci siamo presi Cristiano Ronaldo Ci siamo presi Cristiano Ronaldo Reso conto della partita Sono stato Assai fortunato Devo dirlo Quando è da dire Devo dirlo Stato assai fortunato E Però Siamo presi Cristiano Ronaldo Blu Madonna 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 Va bene Adesso Devo dire le statistiche 10 diri lui Non mi importa lui 10 diri io Non mi importa io E ha da pareggio sta partita Vabbè Possesso palla più mio Quindi Magari un gol Non due Questo è da dire Comunque sono stra felice Che siamo riusciti a prendere Cristiano Ronaldo Blu Madonna mia Allora Sto aspettando che lui Mi faccia l'offerta Ho messo tre giocatori Cioè L'ho messo un giocatore Solamente Che lui ha un problema Perché non li trova Adesso Mi ha detto che Mi aveva fatto l'offerta Anche se non mi è ancora arrivata Comunque E appunto Tornando a parlare Del pink pal Fatemi sapere se lo volete Come fate a Dirmelo Mettete un bel mi piace E commentate Scrivendo Se vogliamo il pink pal Per chi non la sapesse Che cos'è il pink pal Il pink pal è quella serie Dove appunto Io gioco a caso Contro un iscritto E appunto Se vincerò quella partita Giocata a caso Contro un iscritto Mi terrò il mio giocatore Che in questo caso Sarà Oppure si vedrà E Vabbè Mettiamo sarà Sarà CR7 Team of the Year E invece Se perderò Lo darò l'avversario Quindi voi ci avete solo Da guadagnare Questa è la Filosofia del pink pal Oh mio dio Oh mio dio Premiamo Mipsion Lo premiamo Lo prem Madonna Madonna Cristiano Ronaldo Ma La Io la rifiuto Io la rifiuto La rifiutiamo No Accettiamo questo Sentutore di Sentutore di Cristiano Ronaldo Team of the Year Oh mio dio L'accettiamo Hai accettato L'offerta a scambio E io mi sa che con questo Vi saluterò Salutiamo con questo Salutiamo con questo Aspettate Che io Madonna Madonna Che Che magico Aspettate Noi abbiamo vinto Noi abbiamo vinto Perché c'era la magica Pana Madonna Oddio Abbiamo trovato Cristiano Ronaldo Magari avessimo trovato Cristiano Ronaldo No L'abbiamo vinto ragazzi Quindi spero che il video Mi sia piaciuto Vi ricordo di lasciare un bel mi piace Un bel commento Fatemi sapere se appunto Volete il pink pal Di questo giocatore Per il pink pal Però io voglio Una cosa impossibile 3000 mi piace No Beh 2000 li raggiunga 3000 mi piace Anzi Io faccio 4000 4000 Tatti Vediamo 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 Quindi ragazzi Detto questo Ringrazio anche il magico Gabone Per aver infatto la parte Iniziale del video Grazie Gabone L'opportunità che mi hai dato Spero Appunto che questa esperienza Si rifaccia Ovviamente se tu lo vorrai E quindi Detto questo Vi saluto Vi dico potente A fare il prossimo video Bolla